Quali novità per il quinto raduno bantistico a Milena? Il raduno bantistico quest'anno a Milena ha delle belle novità. Innanzitutto abbiamo pensato di rendere i protagonisti e le bande che sono all'interno dell'Unione dei Comuni terre di collina. Per cui avremo il piacere di avere la banda di Serra di Falco, la banda di Monte d'Oro e avremo come banda ospite la banda di Ispica, diretta dal maestro Giannino Amore. Qual è il programma della manifestazione? Il programma prevede alle ore 18 la sfilata delle bande musicali per le vie principali di Milena. Alle 19 ci sarà il concertone delle bande che seguiranno tutti assieme l'inno di Mameli e l'inno Milena Mia. Alle 21 il concerto delle bande su palco in piazza Garibaldi. Grazie. Grazie. Grazie.